3 2 1 go buongiorno ragazzi e ragazzi oggi siamo ritornate qui con un nuovissimo vlog è fatto questo blog si tratta di un bel blog perché andiamo da qualche parte ok allora vediamo quando siamo arrivati ragazzi allora in pratica siamo andati all'outlet siamo andati all'outlet mamma e papà si devono comprare qualcosa ma cercheremo sicuramente di comprarci qualcosa anche noi scusate il giubbino e le scarpe ieri ma le vede le scarpe e giuliano no perché altrimenti prendo la visuale barba allora che senti la visuale barba assurdo allora allora ora siamo all'outlet dopo andiamo a mangiare poi dopo ancora andiamo forse forse al carnevale wow che bello ma che ne so si quello è il pincher ma è brutto Giulia a me non mi piace che è successo? mamma ne ha affittato dove? calzedonia calzedonia eccoci mamma tutto bene cosa hai comprato mamma? le calze Giulia tu non hai comprato ancora niente? nè no tu bab? io niente ho fatto il cattivo non mi vogliono comprare niente queste monelle no è una fascia una fascia bab io cammino al contrario guardate ok la vedete ora cammino normalmente ho dimenticato mi stavo comprando una maglia alla una maglia all'avance pensando che stava in sconto però non era vero e quindi non me la sono più comprata ma era troppo bella quindi prima o poi la comprerò vero bab? ma a ti piace più adidas, avance o all'altra che era converse? la fontana si vede benissimo eccoci ragazzi la fontana è il primo vlog ragazzi è il primo vlog con questo cellulare il mio iphone X il mio? iphone X ancora? guarda 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 devo passare lì? no oddio papà allora io rischio eh cioè o stivolo o mi bagno poi si bagna la fascia come fai? poi si bagna la fascia io li prenderei io lo vieni qua, vieni qua dai ma non si arriva ma dove fai? no no sto scherzando guardate no si fa rossiere di cane che è? oddio ragazzi venite che è, che è, che è te lo copri, te lo copri non si proprio c'è il carrezzo della roba mi fa questo è il carrello che vuole Giulia dove è Giulia? Giulia dove è? che vuole? sono... come si chiamano? ah emoji che sono? caramelo? si quella è caramelo caramelo? si caramelo? questo è? non lo so non lo so sono commose delle cose non lo ha capito? sono commose delle cose sono commose delle cose sono commose queste? si sono commose delle cose si hai visto? ma si mangia? secondo te non si mangia? si si mangia ma se la prendi la ciliegia quella è la grande dove c'è la ciliegia grande? la ah quello ma perché no? dai non ti chiedo a finire se te lo giuro ragazzi allora sono andata vicino al banchetto pensando che c'erano le skittles le skittles le skittles sono caramelle americane e quindi potevano starci ma in realtà non ci sono quindi no però c'erano tipo altre caramelle che si chiamavano non so che cosa e lo so e quindi erano abbastanza belle e io le volevo però guarda poi quindi e io ora tengo sete e devo bere assolutamente chi le sono? chi le sono? chi le sono? mamma io tengo sete guarda 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 che? andiamo ad arrivo arrivo e la bontà che segui costruendo ogni tanto da quant'è che non faccio un vlog non mi ricordo niente allora ragazzi abbiamo fatto Giulio si è comprato lui faccio una cosa guarda che è caricato oggi guarda qua che è caricato aspetta 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 oggi ti hai caricato a quest'ora che abbiamo caricato si vede non vedo niente non vedo niente 2 ore e 90 l'abbiamo pagato qui è? è qui dove dove? voglio vedere oddio andiamo no no dove correte ce la vede la penna? marghe mamma mamma non ho capito voglio scrivere la mia firma sopra no non c'è va bene guarda qua la prossima volta la prossima volta la prossima volta andiamo andiamo che sono mille palline hobbits che bella questa cosa stai facendo il cuore? dedicato alla magic family amore 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 Fammi sentire un po', hai visto il festival di Sanremo? Sì. Contenta? Vedi chi ha vinto? Sì. Che viene un sacco quella canzone. Vuoi fare Florislava? Sì. No, non ti vuoi fare. Sì. Ma è bello. Ha detto che non vuole fare più, ha paura che perde forse. Sta scappando, vedi che sta scappando. Vedi che sta scappando. No, ma sono rosso come un pallone. Ma niente. Quindi ragazzi, questo era il vlog. Spero vi sia piaciuto. Vi abbiamo portato in questa parte piccolina però con noi. quindi sì. Se vi è piaciuto lasciate like, commentate, scrivetevi. E fate tante cose belle. Allora, no dai, allora. Vai, pronta? Sì. 3, 2, 1, go! Quindi ragazzi, questo era il vlog. Spero vi sia piaciuto. Ah, mi piacciono tantissimo. Iscrivetevi a Instagram. Marghe Giulia Kawaii-Official. Su Facebook. Marghe Giulia Kawaii Real. Sul secondo canale. Maggi TV. Su Musical. Musical. Marghe Giulia Real. E se volete le maglie, le cover, le tatue, i cuscini e tantissime altre cose di tantissimi altri colori. Andate su www.MargheGiuliaKawaii.it Se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale se non vi è piaciuto. E ricordatevi che io Marghe e lei Giulia insieme a voi formiamo la Magic Femini. Cioè amore puro. Vi mandiamo un bacione enorme. Se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale e condividetelo se non vi è piaciuto. A presto.